Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione dedicata al Veneto. In apertura ci sono i numeri di giornata, continua a flettere la curva del contagio per la regione del Veneto. Sono stati 343 i contagi di giornata, 8 le vittime che portano il bilancio, 11.483 morti dall'inizio della pandemia. Scendono ancora e di molto gli attualmente positivi, rimangono 15.894, oltre 800 e meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda l'occupazione negli ospedali, appena superiore a quota 1.000 il numero dei ricoveri, 1.800 per l'esattezza, dei quali 887, meno 29 nei reparti ordinari, 121, meno 9 nelle terapie intensive. Sul fronte vaccinazioni invece si festeggia un nuovo primato per quanto riguarda le dosi somministrate giornalmente, 44.726 quelle inoculate ieri in Veneto. Il risultato totale a livello nazionale, lo vediamo, è di 26.682.000 dosi somministrate e 8.370.000 cittadini completamente immunizzati, oltre il 14% della popolazione. Il dato relativamente al Veneto, ci sono stati al momento oltre 2.261.000 dosi somministrate sui 2.439.000 a disposizione, un utilizzo del 92,7%. Per quanto riguarda tra prima e seconde dosi, il 32% della popolazione l'ha ricevuta almeno in un caso. Nel frattempo riparte la stagione estiva, l'avvio della stagione in particolare sulle spiagge Venete a Jesolo, segue il primo vero boom stagionale di prenotazioni registrato nella giornata di ieri. Oggi, spiegano gli operatori, è arrivata addirittura più gente di quanto era prevista fino a una settimana fa. La sensazione riscontrata dall'arrivo dei turisti negli hotel, dicono le associazioni degli albergatori, è che l'aver tolto la quarantena rientro, ma anche il fatto che si inizia a parlare di togliere il coprifuoco o comunque spostarlo, unito al sole e alla voglia di vacanza, ha convinto molti a prenotare Last Minute. Sono arrivati soprattutto italiani, molti altoatesini, ma anche dalla Lombardia. Per quanto riguarda Austria e Germania, la risposta è ancora tiepida, anche se si registrano le prime presenze. A Jesolo ad oggi sono aperti circa 150 hotel sui 360 totali. Per il prossimo fine settimana dovrebbero aprirne molti altri. Avviato da stamani anche il servizio di salvataggio nella decina di stabilimenti già aperti. Ora siamo pronti a farci raccontare alcune delle altre notizie che troverete domani in edicola sulle pagine della Gazzettina in compagnia di Ario Gervasutti. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi telespettatori di Udinese TV. Sì, come avete detto c'è parecchio fermento tra gli operatori turistici perché in effetti questa prima giornata di apertura, soprattutto delle spiagge nelle località di mare, è stata un po' fredda, sia dal punto di vista della temperatura che dal punto di vista del coinvolgimento delle presenze dei turisti. E proprio per questo gli albergatori chiedono, e non solo loro, chiedono di poter vaccinare anche in vacanze. Questo è uno dei temi su cui troverete domani degli articoli sul Gazzettino. Noi tratteremo sul Gazzettino perché gli albergatori chiedono che ci possa essere un meccanismo, un'organizzazione per poter vaccinare i turisti, magari anche le seconde dosi, quelli che hanno le seconde dosi e la cui scadenza cade proprio in mezzo al periodo di vacanze. Quindi cercare di andare incontro alle esigenze del turismo e della salute. Anche su questo domani ci darà qualche risposta, le potrete leggere sul Gazzettino, il generale Pegliuolo che abbiamo intervistato e che farà il punto della situazione su queste altre richieste. Il Veneto ha raggiunto il record di vaccinazioni in un giorno, più di 44 mila, e quindi da questo punto di vista prosegue bene il programma di vaccinazioni. Programma però che deve fare i conti anche con addirittura dei sanitari che rifiutano di vaccinarsi. Passi finché si tratta magari di qualche infermiere che evidentemente ha qualche lacuna dal punto di vista della formazione. Ma quello che sta succedendo a Belluno è qualcosa di un po' più incredibile, perché addirittura c'è un primario ospedaliero che tra le persone, tra i sette, che hanno fatto ricorso contro la sua messa in ferie obbligatorie, che prelude peraltro a una sospensione, perché non si è vaccinato e rifiuta di vaccinarsi. Quindi a questo punto siamo arrivati che c'è anche un primario tra coloro che rifiutano le vaccinazioni. Ovviamente ci sono molte altre notizie sul gazzettino di domani. In prima fila c'è la situazione drammatica che sta evolvendo sempre peggio in Israele e Palestina, con ormai una guerra casa per casa. Ci sono poi altre notizie. Tra queste vi segnalo la storia di un gruppo di maestri di sci veneti che si sono trasferiti armi e bagagli dalle Dolomiti al K2, perché vanno a insegnare lo sci a quelle popolazioni che, pur abitando sulle montagne, ovviamente in assenza di impianti di risalita, perché loro sono abituati a risalire le montagne a piedi, come è ben noto, i nepalesi, non sanno sciare. Quindi c'è questa vicinanza, questa comunanza, questo ponte tra le Alpi, le Dolomiti e l'Himalaya che noi raccontiamo con questa iniziativa. Poi c'è un'ampia pagina sportiva, ovviamente, e queste e altre notizie, comunque le potrete leggere domani mattina con il gazzettino in edicola. Chi ha l'abbonamento digitale le può leggere già dalla mezzanotte sui vari device. Grazie, grazie e buon fine settimana Dario Gervasutti. Noi ripartiamo con il nostro notiziario, proprio da una delle notizie che citava il collega del gazzettino, ovvero lo scontro tra Israele e Palestina. Oggi a Padove in particolare c'è stata una manifestazione a sostegno della causa palestinese che si è svolta in piazza Kavur. Vi hanno partecipato circa 300 dimostranti aderenti a Rifondazione Comunista e l'Associazione Pacifista Internazionale Donne in Nero, molti dei quali innalzavano le bandiere della Palestina. L'obiettivo dei manifestanti era quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sui drammatici eventi in corso a Gaza. Alla guida della manifestazione, l'influencer Miriam Mazza. Andiamo a Treviso ora per parlare di un'iniziativa molto importante del Comune che parteciperà al Bando Europeo Cargo Bike Urban Mobility con l'obiettivo già da inizio del 2022 di implementare le consegne dei pacchi in città attraverso l'utilizzo delle biciclette. Vediamo. Il traguardo che si data all'Europa è quello di ridurre l'inquinamento atmosferico per giungere entro il 2050 a zero emissioni. È in quest'ottica che la Giunta Comunale di Treviso ha deliberato la partecipazione al Bando Europeo Cargo Bike Urban Mobility. Il primo passo consisterà nell'individuazione di svariati punti di raccolta a ridosso del centro cittadino. Sarà in questi hub attrezzati per la sosta che i pacchi di piccole dimensioni saranno trasferiti su bici da carico deputati a percorrere il cosiddetto ultimo miglio per le consegne all'interno delle mura cittadine con conseguente riduzione del traffico e quindi dell'inquinamento atmosferico a partire dalle polveri sottili. Non è ancora stato precisato se il servizio di consegna sarà gestito direttamente dal comune, da una controllata o se si aprirà una gara per coinvolgere aziende private. Il vice sindaco, con delega alla mobilità Andrea De Checchi ha anticipato che questa modalità di consegna per i pacchi di piccole dimensioni sarà seguita da un rinnovamento del parco veicoli puntando sull'elettrico. A proposito di mobilità vi ricordiamo che da stasera chiuderà dalle 18 e chiusa l'autostrada a 4 e lo rimarrà fino alle ore 10 di domani mattina nel nodo di Porto Gruaro e tra San Donati Piave e La Tisana in direzione Trieste nel tratto La Tisana, nodo di Porto Gruaro in direzione Venezia per la posa del nuovo viadotto che servirà, lo vedete nelle immagini per il raccordo dedicato ai lavori della terza corsia un'opera di 60 metri di lunghezza, 18 di larghezza e 510 tonnellate di peso un'opera regina del primo sublotto, del secondo lotto della terza corsia il varo nella notte, le operazioni per innalzare la carpenteria metallica sono già iniziate nei giorni scorsi e per quanto riguarda poi le riaperture a partire dall'ore 10 di domenica salvo imprevisti il tratto appunto compreso tra San Donati Piave e La Tisana in entrambe le direzioni potrà riaprire con le deviazioni segnalate sul posto Andiamo a Venezia, lo spazio espositivo dell'isola della Giudecca Casa dei Treoci ha riaperto con una grande retrospettiva del fotografo Mario De Biasi La Casa dei Treoci ha riaperto al pubblico omaggiando la figura di Mario De Biasi uno dei maggiori interpreti del Novecento fotoreporter che riuscì a raccontare società e tradizioni del secolo scorso attraverso la fotografia L'esposizione, dal nome Mario Biasi, fotografie 1947-2003 è visitabile fino al 31 maggio Curata da Enrica Viganò, ripercorre l'intera produzione del fotoreporter attraverso 256 scatti Il percorso espositivo si divide in 10 macro-sezioni che raccolgono le testimonianze di eventi storici, viaggi, ritratti e scene di vita quotidiana sfociando infine nel concettuale e nell'astratto Una mostra che svela le diverse sfaccettature del carattere e della fotografia di De Biasi fotoreporter dalla vita intensa trascorsa a immortaliare immagini di guerra, calamità naturali e celebrità Lo sguardo di De Biasi si fa attento tra gli scorci di New York, le piazze di Londra e Parigi fino in Ungheria Piccoli passi verso il ritorno alla normalità anche sul fronte letterario Sono riprese la settimana scorsa le presentazioni dei libri per esempio alla Lovat di Villorba gli appuntamenti quotidiani con gli autori fermi da oltre un anno segnano dunque un ritorno verso la normalità appunto È ripartito l'appuntamento quotidiano con gli autori alla libreria Lovat di Villorba Ne ha parlato ai nostri microfoni la proprietaria Carlotta Borghi Settimana scorsa abbiamo ripreso a organizzare le presentazioni all'interno della libreria Questo ci ha veramente emozionato e reso felici perché dopo un anno di interruzione per il Covid devo dire che la libreria zopicava in quanto la vita della libreria particolare delle Lovat è proprio data da questa aggorada, questa piazza dove ci si può incontrare e confrontarsi sia con i bambini e tutti i giovedì che con i grandi quindi questa ripresa ci ha veramente dato la forza in più per andare avanti in maniera positiva e uscire il primo possibile da questo blocco che c'è stato Conto alla rovescia invece nel bellunese per l'inaugurazione della Sala degli Spadai al Museo Fulcis di Belluno ce ne parla la collega Alessia Trentin Sono quasi ultimati gli allestimenti della Sala degli Spadai il nuovo spazio espositivo al secondo piano del Museo Civico della città di Belluno Dentro le teche sono già state sistemate le spade di fattura bellunese concesse incomodato d'uso dal correr di Venezia il giorno dell'inaugurazione verrà reso noto a breve ne parla il curatore del Museo Fulcis Carlo Cavalli Stiamo ultimando in questi giorni la Sala degli Spadai un nuovo ambiente di Palazzo Fulcis dedicato alla produzione di armi bianche a Belluno e nel territorio e realizzato nell'ambito del progetto Interreg Italia-Austria Clang, Spade di Leoni e di Aquile Sono esposte principalmente armi bianche provenienti dal Museo Correr di Venezia quindi spade, armi corte, armi nasta principalmente 5, 6 e 7 centesche e anche alcuni altri pezzi particolari di cui vi parleremo in occasione dell'inaugurazione Nei prossimi giorni vi comunicheremo proprio la data dell'inaugurazione nella quale appunto presenteremo questo nuovo ambiente del Palazzo e del Museo Civico di Belluno A presto dunque Apriamo la pagina sportiva tornando a Iesolo perché è confermato il ritorno della Moonlight Half Marathon con i 10 km e già 2.000 le iscrizioni Torna a Iesolo la Moonlight Half Marathon e la Iesolo Moonlight 10K dopo lo stop dello scorso anno a causa dell'emergenza sanitaria Sono già 2.000 gli iscritti all'evento che si terrà sabato 26 giugno organizzato da Venice Marathon con il patrocinio della città di Iesolo La mezza maratona internazionale festeggia quest'anno i primi 10 anni mentre la 10K ne compie 6 L'assessore allo sport di Iesolo Esterina Idra commenta Siamo felici di annunciare la decima edizione di Moonlight Half Marathon e la sesta 10K che sarà non solo un evento celebrativo della manifestazione dello sport ma sarà soprattutto un momento con cui speriamo di poter segnare il ritorno ad una vita normale Moonlight Half Marathon è la miglior risposta alla voglia di ripartire che c'è in città come negli ospiti e nei protagonisti che parteciperanno all'evento Il punto di forza della manifestazione è la combinazione dei colori del tramonto con gli scenari suggestivi del percorso caratterizzato da mare, fiume, pineta, lungomare e spiaggia E' tutto per questa edizione, ci fermiamo qui vi ricordiamo l'appuntamento in serata in prima serata con Udinese TV alle ore 21 con uno dei nostri film di primo d'autore e poi naturalmente l'informazione alle 22 e 30 con l'ultimo flash di giornata ci lasciamo in compagnia delle previsioni del tempo grazie per averci seguito Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebineti o agli amici di Udinese TV che ci seguite dal Veneto nella giornata di domenica il continuo flusso di aria umida atlantica determinerà un contesto ancora variabile sul Veneto al mattino la situazione sarà tutto sommato tranquilla con tempo stabile, soleggiato, salvo nubi irregolari in graduale aumento e spessimento sui settori montuosi dal pomeriggio avremo lo sviluppo di piogge e isolati rovesci dal pomeriggio invece sulle zone di pianura anche lungo il comparto costiero i cieli saranno offuscati da innocue velature tuttavia non avremo conseguenze le temperature massime sono gradevoli seppur senza eccessi toccheranno picchi di 20-22 gradi è tutto ma per dettagli ulteriori scaricate l'app gratuita o consultate il nostro sito